Sono passati 90 giorni, la ricapitalizzazione di AMIU non è avvenuta, la sua liquidazione non solo è inevitabile ma anche auspicabile a questo punto. Il movimento civico Trani a capo ha tenuto questa mattina una nuova conferenza stampa sul tema della municipalizzata tranese che si occupa di spazzamento, raccolta rifiuti e non marginalmente della discarica. Portano come loro buona abitudine i documenti rappresentanti del partito a scrivere che la società sarebbe andata in liquidazione se entro 90 giorni il comune non avesse operato la ricapitalizzazione da quasi 5 milioni di euro. È stata a dicembre proprio l'amministrazione di AMIU. Ora che i 90 giorni sono passati il tema non è ancora all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale che si riunirà domani. L'unica possibilità che hanno ma sarebbe davvero una mancanza di rispetto assoluta è che domani il Consiglio Comunale vada deserto e quindi potranno aggiungere un ordine del giorno aggiuntivo. Noi domani ci saremo perché significherebbe una mancanza di rispetto assoluta nei nostri confronti se domani dovessero essere e dovesse essere deserta già l'Assemblea. Sembrerà paradossale ma la soluzione della messa in liquidazione di AMIU è per l'ex candidato sindaco del movimento Trani a capo Antonio Procacci l'unica soluzione possibile. Noi proponiamo a questo punto l'unica strada possibile visto che il Comune di Trani non è in grado di sopportare la ricapitalizzazione di AMIU non è in grado di sopportare 4,7 milioni di euro sul proprio bilancio. Noi proponiamo di mettere la società in liquidazione, di salvare i dipendenti di AMIU attraverso, ovviamente questo percorso va concordato e condiviso con l'Aro attraverso il fitto del ramo di azienda ad una delle aziende che si occupa dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti nei comuni limitrofi quindi il Comune di Trani pagherebbe questa società incaricata dall'Aro e questa società fittando il ramo di azienda di AMIU gestirebbe il servizio con i lavoratori e con i macchinari di AMIU, tutto questo nell'emore del completamento della procedura di liquidazione per poi, augurandosi che nel frattempo venga costituita la società tra i comuni di Barletta, Trani e Biceglie AMIU ceda definitivamente o conferisca, poi tecnicamente si dovrà vedere, il ramo d'azienda a questa nuova società e così resterebbe in piedi soltanto la bad company, quella che viene definita bad company che poi andrebbe messa in liquidazione tutto questo, andrebbe completato la liquidazione di tutto questo senza che ci sia anche un solo centesimo sulle spalle dei cittadini di Trani